Buongiorno a tutti amici e fratelli Rosa Nero, amici in generale di YouTube, finalmente ci siamo. Oggi è il 12 di agosto e manca solo l'ufficialità per sapere che il nostro nuovo allenatore sarà Boscaia. Perché lo ha detto ieri in un'intervista a Sagramola, dicendo che si sono accordati e hanno trovato l'accordo per l'ufficializzazione. Si aspetta solo che Boscaia si liberi ufficialmente, a livello burocratico, di firme, di clausole, di tutte cose, da Virtus Entella. Quindi c'è l'accordo, il nostro nuovo allenatore è Roberto Boscaia, allenatore di Gela, allenatore esperto, allenatore che conosce la categoria, che conosce anche la categoria di B. Un allenatore di cui ho tanta fiducia e che, come dicevamo, se non veniva non era per soldi, non era per questo, non era per quello, ma perché non credeva nel progetto. Quindi lui sta venendo perché il progetto del Palermo e quindi il progetto Boscaia è quello di creare una squadra per la Serie B. Quindi l'obiettivo stagionale lo sapevamo, ma ci serviva un tecnico all'altezza e che voleva quell'obiettivo perché se non c'era la sicurezza di quell'obiettivo lui non veniva e quindi è tornare subito in Serie B. Adesso si sbloccherà il mercato perché molti si lamentano che siamo ad agosto e il Palermo non ha comprato nessuno. Se tu non sai chi si siede in panchina, che cosa puoi fare nel mercato se non sai se quel giocatore è funzionale al gioco di quell'allenatore o di quell'altro allenatore? Non puoi fare nulla perché magari compri, che ne so, un forte trequartista e quello ti gioca con il 3-5-2 e gli servono tre mediani o due mediani e uno davanti la difesa, uno tipo all'apirlo. Oppure gioca con, non gioca con Rombo ma gioca con le fasce, un 4-4-2 del trequartista non sa che cazzo farsene. Insomma, non ha senso andare a fare mercato senza sapere chi è l'allenatore perché in base all'allenatore, alle idee tattiche dell'allenatore si crea la squadra. Quindi si aspetta l'ufficialità, oggi ci dovrebbe essere il pranzo conclusivo con Boscaia, Sagramola e poi il resto della dirigenza per l'accordo definitivo. Ma ragazzi, siamo ai titoli di coda, sembra fatta, ormai ci siamo, mancano soltanto le firme, appena ci sarà la firma faremo il video, il video riconferma. Quindi ragazzi, io penso che possiamo essere soddisfatti. Un'altra chicca ho sentito tramite fonti sicure che sono molto vicine, anzi lavorano proprio per lui, che Massimo Ferrero sia ancora interessato al Palermo, che voglia prendere quella parte che potrebbe lasciare di piazza visto che è in rotta già diversi mesi con il presidente Mirri. Quindi Ferrero in questo anno è rimasto alla finestra, vuole vedere come si evolve la vicenda ed è sempre interessato al Palermo. Ragazzi, io non ho altro da dire, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, fatemi cosa ne pensate di Boscaia e cosa ne pensate di Ferrero, perché non si sa mai. Condividete il video, iscrivetevi al canale di Luigi Rosanero, ragazzi, nel bene e nel male, sempre. Forza Palermo!